Ci sono gente del PDL che hanno appalti nelle ditte, che prendono centinaia e centinaia di milioni di euro d'appalto, della signora e di tutti gli altri, non se ne fottono proprio niente! Apparentati Non si vergogna Rana a dire delle fesserie? Apparentati C'è tutto Stoni da Puglia prima di tutto, perché la gente imbecille politico, la gente non è stupida, questa volta la gente vi prenderà a calcire il *** perché avete distrutto questo territorio! Apparentati Il 21 e 22 giugno, fai la cosa giusta, vota Gianni Florido Scusi, dove va lei? In provincia E se lei ha le carte in regola? Per entrare alla provincia di Taranto, deve avere esperienza nell'amministrare la cosa pubblica, competenza nella gestione dei bilanci, capacità di governare in maniera stabile e poi passione, entusiasmo e determinazione Il 21 e 22 giugno al balottaggio, vota Gianni Florido